Proseguono gli incontri qui al Casinò di Sanremo, tra l'altro sono giorni cruciali per la politica nazionale e Sanremo da questo ne ha un grande vantaggio d'immagine perché è alla ribalta di tutta Italia. Ma una grande visibilità non solo per Sanremo ma soprattutto per il Casinò. Il Casinò ha una grossa audience, un grosso appeal, è questo un momento cruciale e diciamo la verità siamo stati anche un pizzico fortunati visto gli eventi, però è importante che in queste giornate sono stati affrontati temi importanti, temi di politica nazionale e soprattutto gli incontri dibattiti e gli incontri della sera con il question time, con i filosofi, con gli intellettuali, con gli iscrittori e con gli avvocati si è portato avanti secondo me un discorso importante. Di questo ne ha tratto vantaggio non solo il Casinò di Sanremo ma tutta la città e secondo noi è un bel evento che fa bene a Sanremo e fa bene alla città. Insomma questo deve essere il Casinò, in questo caso politica ma un punto di riferimento anche per cultura, spettacolo e quant'altro. Ma il Casinò secondo noi deve essere un po' tutto, deve essere gossip, deve essere leggerezza, deve essere approfondimento, deve essere politica, deve essere gioco, deve essere un grosso contenitore aperto alla città e aperto al paese. Con questa manifestazione e ringrazio soprattutto il direttore del giornale e tutti i collaboratori che hanno creduto a Sanremo e al Casino di Sanremo per svolgere ed effettuare questa manifestazione ci ha dato una grossa mano, una grossa visibilità. Siamo pronti ad aspettare e ad ospitare altre testate giornalistiche che vorranno venire al Casinò di Sanremo in piena collaborazione e speriamo di fare altri eventi sia di questo genere che di altri generi perché al Casinò bisogna fare un po' di tutto.